Bene ragazzi, parliamo di alcuni concetti fondamentali di educazione civica. Per esempio il concetto di cittadinanza. È importante essere cittadini di uno Stato ed è questo un diritto inanierabile, come recita l'articolo 22 della Costituzione italiana, che appunto recita che nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica della cittadinanza del nome. Quindi è importante essere cittadini di uno Stato perché si gode di una serie di diritti ma anche si hanno dei doveri. Allora i diritti sono diritti civili e diritti politici. I diritti civili che sono stati espressi per la prima volta durante la rivoluzione francese del 1789 con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino si possono condensare in due diritti fondamentali. L'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza differenze di ricchezza, di nascita, di religione, di razza anche se la razza non esiste, di colore della pelle eccetera eccetera. Insomma la cosiddetta isonomia che anche Eclissene voleva raggiungere nella sua Atene e poi la libertà individuale, il diritto alla libertà individuale, quindi alle libertà fondamentali, la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di espressione politica, la libertà di realizzazione personale, la libertà di scelta eccetera eccetera. Per quanto riguarda i diritti politici ecco si possono riassumere nell'elettorato attivo e nell'elettorato passivo. L'elettorato attivo è il diritto di esprimere il voto in libere elezioni, cioè insomma il diritto di votare e noi sappiamo che compiuti i 18 anni ecco si può votare per la Camera, mentre per votare per il Senato si devono avere 25 anni di età. L'elettorato passivo invece ha il diritto di ricoprire cariche politiche, per cui non solo si può votare ma anche ci si può presentare alle elezioni per essere votati come deputati alla Camera oppure come senatori. Per quanto riguarda i doveri ecco si possono riassumere in tre doveri fondamentali, la fedeltà nei confronti dello Stato, il dovere di difendere la patria e l'obbligo di rispettarne le leggi. Ecco questi sono i doveri fondamentali di ogni cittadino. Ecco in storia già abbiamo incontrato varie forme di governo. Allora secondo Aristotele esistono tre forme di governo fondamentali e sono la monarchia, cioè il potere di uno solo, dal greco monos uno solo e archè potere, l'aristocrazia, cioè il potere dei migliori da aristocratia e la democrazia, il potere del demos, del popolo da demos e cratia. Però sosteneva Aristotele queste tre forme di governo possono degenerare perché la monarchia può degenerare in tirannide, quindi in dispotismo tirannico, l'aristocrazia può degenerare in oligarchia, cioè nel potere dei pochi nel potere di una casta come succedeva per esempio nella Sparta degli spartiati, la democrazia può degenerare in anarchia, cioè in disordine, in caos, come poi vedremo succederà ad Atene dopo la morte di Pericle. Ecco, quindi ecco queste sono le tre forme fondamentali di governo. Che forma di governo è la nostra Costituzione? La nostra è una Repubblica, è una Repubblica che nasce dalla resistenza al nazifascismo, è una Repubblica che nasce dopo che gli italiani sono stati chiamati nel 1946 a scegliere in un referendum tra monarchia e Repubblica che hanno scelto la Repubblica e infatti il re è andato in esilio. La nostra è una, abbiamo detto, una Repubblica parlamentare perché il centro della Repubblica è il Parlamento ed è una democrazia rappresentativa diversa dalla democrazia ateniese di Clistene che era una democrazia diretta perché ad Atene tutti i cittadini, almeno una volta nella vita, poveri, ricchi, nobili, non nobili, ecco sarebbero stati sorteggiati per andare nella Boulé oppure per partecipare all'Eliea, al Tribunale Popolare. Mentre noi non andiamo direttamente a, cioè non veniamo sorteggiati per andare in Parlamento, ma eleggiamo i nostri rappresentanti in Parlamento, cioè eleggiamo dei politici che ci rappresentano. Ecco perché parliamo di democrazia rappresentativa. E allora quali sono i tre organi fondamentali dello Stato? Il Parlamento, il Governo, la Magistratura e poi c'è il Presidente della Repubblica. Allora, il Parlamento, abbiamo detto la nostra Repubblica è centrata sul Parlamento. Infatti il Parlamento ha il potere legislativo ed è quello che noi eleggiamo perché è eletto dai cittadini, va bene? Quindi siamo noi che eleggiamo, ripeto, i nostri rappresentanti, in base ai partiti, ai programmi politici che essi presentano, i nostri rappresentanti in Parlamento. Il Parlamento ha il potere legislativo, cioè ha il potere di votare le leggi o approvarle o respingerle. Quindi è come l'Ecclesia ateniese. Però attenzione, mentre nell'Assemblea ateniese si potevano le leggi presentate dalla Boulay si potevano o approvare o respingere, nel nostro Parlamento c'è anche la possibilità di emendare le leggi, insomma di correggerle, presentare, i vari partiti possono presentare degli emendamenti alla legge presentata dal Governo per poter cambiare, ecco la legge, va bene? Per poter aggiungere, per poter cambiare qualcosa. Ok? E il nostro Parlamento è formato da due Camere, noi abbiamo il cosiddetto bicameralismo, e cioè dalla Camera e dal Senato. Detto questo, appunto, andiamo al Governo. Il Governo equivale alla Boulay ateniese, perché è il Governo che ha il potere esecutivo, cioè il potere di fare le leggi e di presentarle al Parlamento. Il Governo è formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, ed è scelto dal Presidente del Consiglio, no? Perché il Presidente del Consiglio nomina i Ministri, nomina la cosiddetta squadra di Governo, però il Presidente del Consiglio è scelto dal Presidente della Repubblica. In base a che cosa? Il Presidente del Consiglio e i suoi Ministri, cioè il Governo, deve avere la fiducia del Parlamento, quindi deve godere di una maggioranza di voti, almeno relativa in Parlamento, perché è chiaro che deve avere la possibilità che le sue leggi vengano approvate, almeno in maggioranza, in Parlamento, con un voto di maggioranza in Parlamento, perché sennò il Governo non fa, diciamo, strada se non ha la maggioranza in Parlamento. Quindi, ecco, il criterio fondamentale è quello che il Governo, ecco, abbia una maggioranza, almeno relativa in Parlamento. E poi c'è la magistratura, invece, che ha il potere giudiziario, un po', ecco, noi lo possiamo paragonare all'Areopago e all'Eliea ad Atene. Va bene? Noi abbiamo anche il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica che viene eletto ogni sette anni, perché sta in carica per sette anni, dal Parlamento con i delegati regionali. Il Presidente della Repubblica, oltre a rappresentare l'Italia, ha il potere di promulgare le leggi, cioè una volta che queste leggi vengono approvate dalle due Camere, perché le leggi devono essere approvate prima dalla Camera e poi dal Senato, il Presidente della Repubblica poi alla fine le firma e quindi vengono promulgate e poi vengono presentate sulla gazzetta ufficiale. E poi se, appunto, in caso di crisi di governo, quando appunto il governo cade perché non ha la maggioranza in Parlamento, allora il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere le Camere. Va bene? Quindi questo è quanto sulla nostra Costituzione. Quindi voi pensate, Parlamento, potere legislativo uguale all'Ecclesia, governo, potere esecutivo uguale alla Bulè, magistratura, potere giudiziario e quindi potere di far rispettare le leggi, naturalmente, perché la magistratura è formata dai giudici, dai magistrati, ecco come l'Aereo Pago e come l'Eliea ad Atene. Va bene? Dice il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica, beh, allora c'erano gli arconti e poi gli strateghi, va bene? Però, certo, la figura del nostro Presidente della Repubblica è un po' diversa da quella di uno stratega ateniese. Va bene? Comunque abbiamo finito.